Le critiche a questa riforma della Costituzione per il metodo soprattutto, ma anche per aspetti fondamentali nel merito, io tuttavia resto profondamente convinta che questa riforma insieme alla legge elettorale non sia una modifica della nostra Costituzione, ma sia in parte un cambiamento profondo della forma di democrazia parlamentare. Il Presidente del Consiglio ha in questi giorni annunciato che non ci saranno modifiche, così come spesso è stato detto che molti di noi volevano fermare il processo riformatore. Bene, Presidente, nonostante tutti i dubbi, io oggi dimostrerò con il mio voto favorevole che non intendo fermare il processo riformatore, ma se il Governo resterà fedele alle parole del Presidente del Consiglio e non verrà modificata né la legge elettorale e non verranno apportati miglioramenti a questo testo, io nelle votazioni precedenti non voterò a favore, non parteciperò al voto perché nel caso di referendum vorrò stare dalla parte dei cittadini. Grazie. Mi ringrazio, Onorevole Bindi. Adesso chiede intervenire il Deputato Alfredo Dattorre. Prego, la Facoltà.